Gli stecchi di mele e pera sono perfetti per un buffet o uno spuntino in compagnia di amici, oppure una soluzione accattivante e simpatica anche per una merenda coi bambini che generalmente non amano mangiare la frutta. Mele e pere, cioccolato fondente, crema di frutta secca e delle granelle o delle lamelle per completare. Io ho pistacchi e mandorle. Prima cosa da fare mettiamo a sciogliere il cioccolato o a bagnomaria o al microonde piano piano. Iniziamo tagliando la mela. Faccio la stessa cosa con la pera. Questo è circa lo spessore che devono avere le fette. Faccio un taglietto nella parte sotto, prendo uno stecco, facciamo la stessa cosa anche nella pera. Ok, perfetto. Aggiungo la crema di frutta secca, nel mio caso arachidi. Partiamo dallo stecco di mela, lo mettiamo dentro, poi ci diamo una mano con un cucchiaio e li mettiamo sopra una bella colata di cioccolato. Adesso granella di pistacchi sopra, da una parte e dall'altra. E il primo stecco è pronto. Per la pera la stessa cosa, nel cioccolato, mandorle a lamelle sopra, dritto in frigo. Un'oretta in frigorifero, che sia per un buffet o una merenda per i bambini, direi che è spettacolare comunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.